Saranno i primi 19 giovani ambasciatori della legalità in Valle d'Aosta. Il loro compito sarà quello di trasmettere ad altri giovani la consapevolezza che la mafia è un male che può essere vinto, parlandone, studiandola e imparando a riconoscerla. Con questo obiettivo ha preso il via il primo corso di formazione per giovani ambasciatori della legalità, organizzato dall'Osservatorio regionale antimafia del Consiglio Valle dal Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche dell'Università della Valle d'Aosta. Il percorso a cui partecipano studenti iscritti ad un corso di laurea e laureati è stato inaugurato nel pomeriggio di martedì 28 novembre nella sede di Saint Christophe dell'Ateneo Valdostano e proseguirà fino a venerdì 1 dicembre. Per tutta la settimana sono previsti degli incontri con docenti universitari, protagonisti della lotta alle mafie, giornalisti, avvocati ed esperti di criminalità organizzata. Questa prima esperienza si è voluta concentrare soprattutto su alcune delle grandi tematiche disciplinari che incrociano il tema appunto del presidio della legalità. E quindi affronteremo e stiamo già affrontando questo tema partendo da un'analisi storica sul fenomeno delle mafie e poi proseguendo analizzando le implicazioni di carattere economico, giuridico e anche sociale. E abbiamo anche approfittato per coinvolgere dei testimonial che operano in questo campo a difesa e a tutela appunto della legalità stessa e nella lotta e il contrasto contro appunto la criminalità organizzata. Tra questi c'è Vincenzo Ciconte, docente universitario tra i massimi esperti in Italia delle grandi associazioni mafiose e componente del Comitato Tecnico dell'Osservatorio Regionale Antimafia che durante la sua lezione ha accompagnato i ragazzi in un viaggio nella storia delle mafie italiane partendo dalle loro domande. Gli ambasciatori della legalità sono uno strumento formidabile, un'invenzione formidabile della regione, dell'Università della Valla d'Aosta che spiega una ragione molto semplice, devono essere i giovani ad informare gli altri, anche gli adulti, a spiegare agli altri quant'è importante la legalità e quant'è importante la lotta alla mafia. Io non ho fatto una lezione classica, sono stati loro a farmi le domande su tutti gli argomenti. Abbiamo trattato di storia, di geografia, di brigantaggio, di questioni antropologiche, molto belle e molto accattivate. Durante l'inaugurazione del corso il presidente del Consiglio Valle, Alberto Berten, ha ricordato ai ragazzi che la parola è un'arma potentissima contro le mafie perché queste si nutrono di silenzio e di indifferenza. Per questo tutto ciò che i ragazzi impareranno durante il percorso sarà poi messo a frutto in una serie di iniziative rigolate alle scuole secondarie valdostane affinché il messaggio passi dai giovani ad altri giovani. Voglio essere io in primo luogo a diffondere proprio tra le giovani generazioni questa sensibilità sul tema della legalità. Trovo molto importante e rilevante non considerare la mafia come qualcosa di passato ma anche noi contemporanei e quindi qualcosa che anche noi dobbiamo avere conoscenza e avere gli strumenti per conoscerla, identificarla prima e poi sapere come agire dopo. Grazie.